Allora 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 Com'è possibile che a me funziona Prank te l'ho detto non sto scherzando Ho logato 10 volte e non mi andava Ieri mattina anche di più Tutte le 10 volte non è andato Appena ho messo lo streaming Ho aperto lol ed è andato al primo tentativo Non so dirti perché ma È andato sono contento Ma una bella Evelyn Ma facciamo che no Facciamo che giochiamo con Kane che mi piace tanto Con cui sto facendo la win streak Con cui sto cari andi game Con cui sono quasi grandmaster Andiamo a prenderci il grandmaster boys Altre 100 LP oggi cacchio In realtà non vorrei uscire adesso ti dirò Vigo Non vorrei uscire adesso perché sono in mood tryhard Sento di poter fare il challenger Sto giocando sempre bene Quindi non vorrei uscire un nuovo champion che mi distrae dall'obiettivo reale Possiamo diventare mie in Vigo Anche con un po' di ritardo in caso Vediamo come va quest'altra settimana i tryhard Consiglio su come sarà Kane Build e altro Qualche d'uno ce l'ho Bene 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 Uh c'è Reckless Il buon Matt è Reckless Allora Quindi questo che ne dobbiamo offrire è il buon Reckless Precision Penso che i miei siano Sorcery e Inspiration Puoi giocare Future Market Boots gratis GDR Oppure Trascendence Gathering Storm Nimbus Clock Sono tutte viabili Ah Reckless è troppo presto per chiedere il Discord Se lo becchiamo un paio di volte e lo carriamo Magari lo possiamo anche chiedere Come è bot lane What the actual fuck is going on Enny ha già attipato bot Ma Galia ha fatto il cheese bot a livello 1 Interessante Non so se puoi clearare o provare andare bot side Provare andare bot side Ehm Qual è il cooldown della WV di Alistar 9 secondi E adesso quale sarà il cooldown Ma guarda il Minion Block Holy shit Ma siamo un po' Reckless Che è sempre amichevole E l'esco Ah perché sono così greedy Mannaggia Il gioco bene E poi grido sempre Come un porco schifoso Vabbè non fa niente Tanto è Insomma solo un Gragas Che prende una kill Però L'avevo giocata bene Cacchio Non meritavo di morire Nice Abbiamo fatto la kill bot almeno Che porco critiche sono però Mannaggina Potevo accontentarmi della double kill Che era fatta così bene E invece no Volevo necessariamente ammazzare anche Gragas Ah yikes Riesci a fare lo stun in testa E ne hai missato La R Ma se il one trick E il challengerilo E tu missi la R Come ti permetti Ma 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 Abbiamo la forma Sbloccata tra 3 minutini Ok non c'è più Ah serve andare a climappare Forse serve una manina Andiamo a vedere Oh oh mio 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 No E dai Potevi lasciarla a me Maledetto Anche il tiber Si ruba i kill adesso Vabbè Tassato da un NPC Pensa che schifo Ah c'era l'ultid ecco Fuck Non l'avevo proprio vista Io non giocarei di split Oppure fai quello che ti pare Mi scusi per aver dubitato Oh Questa è free Non sono sicuro Muoia No l'ultrigali Questa è cattura Vabbè L'abbiamo presa Ha cattugiato lo stun Ha ultato Oh mio dio Ma quella Quella viene Un meme No bro Ma 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 Come va a scappare da me Ma reckless Tutto a posto E Alistar con il flash Hello guys Ci sono io con la blue Poi per me Letteralmente nessuno può scappare Non c'è un champion più veloce di me Tutti che flash hanno nei muri Vabbè Vabbè Magari anche per lui Warm up game Per solidarietà Sai si Sì per Ma per l'era dobbiamo Ancora un sacco di tempo Midland sarebbe sprecato Teniamo prima il baron E poi lo mettiamo insieme al baron E chiudiamo il game direttamente Oh oh Milno Sì Sì Non Va bene Maledetto Nonostante la stazza Guarda come dodgia Oh Ma che cacchio mi spingi GG GG E questa è la prima del giorno Dai Poteva andare peggio La build così Dicono sempre che ho nintato Perché non vi dare il mitico non ha senso E in parte condivido Però io mi ci trovo bene Quindi Continuo con la mia build strana Dai siamo quasi gran maestri Go 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 Oh ancora Krau E ancora Reckless Siamo i migliori amici Invita lì su Discord Krau sicuramente avrebbe su Discord Ciao 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 I'll play around you botlane I think To get my blue form And then Snowball With Galio and everything Sometime I don't really have any insane setup On these two It's kinda hard to engage in them But We'll see Oh Yikes Brave man Yeah brave man Fighting Dai is level 1 Should be ours Should be ours Yeah That was perfect Nice one Why did he TP? I have no idea Holy shit That was so bad But uh Maybe he gets it Nah not quite And the mid lane dies as well Without getting anything Oh 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 I'm coming towards bot Yeah we seem to be winning Oh Like one HP The flash I can't block the Q's Oh The moves The ulti Oh You got it Yes I do Nice Nice Can we die the Valkots? I think we have to Yeah I think you have enough damage On your own I can just tank it Yeah I gotcha Nice I got so much poke Yep We just have to find a hard engage Nice plan for me Velika's ulted We could actually flank this I have flash in 20 as well We gonna look to flank with Galion Side They used heal What? Flash from Bard We got the Darius Oof I'm dead though Oh the heals The heals from Q's They get the as well Nice What a messy game Pfff I could do better I could do better I think Bard's gonna go for stun a vision Oh she's doing it You can wait a second for us I don't think she can actually finish this Yeah I don't think so either Thing is Darius can be close Oh no Okay you got it I can take it and just run out Yeah I'm just gonna try and run out Ah you can't die I mean that's Alright I got the objective anyway so No idea why we fight this At least At least there's no exhaust Come on Oh Stopwatch Yeah but Okay that's Maybe like Jin can clean up Maybe Yeah that's doable Flash from Darius Look at the mid lane That was so cringe Let's go Let's go Click bar in Should be dead Ignite Darius Nice Nice We got Nash after Combine 2 seconds Keep going I think I'm tanking still Nice We got the Velgos as well No flash Yeah it's gonna die It's gonna die It's gonna die It was a nice fight I think we just go on Darius Nice If we get to burst him down We already went to fight Nice Should be ours now Velgos flashed Both lanes still no flashes Okay Just start the Nash I think Ah I'll go chase Indeed Nice chew from him but he's dead Yeah it was nice scatting Do you wanna fight? I think we can go 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 Maybe Ignite and escape Flash from Darius Jean got ulted by Bart I can still combo in if they want We can push mid I got mid Just gonna look to escort What if we just keep on CG mid? Yeah I think we can Ah Nevermind Reckless is no tank Are you gonna die? Got the Astro? Nice Ah I want to take the other guy but It's B lady Nice one by the way Yeah that should be game Hit the Nexus This guy is so tanky Holy Oh my lord That's a really messy game again Yeah but We ended up winning So I guess that's nice I'll see you in solo Q man That was fun Yeah good luck with the next Good luck Bye bye E siamo quasi gran maestri Questo game non abbiamo brillato Ho formato troppo poco Come mai senza mythic? Non mi piace il mythic O meglio mi piace ma Ho trovato questa build senza Mi trovo bene Continuo così per un po' Dicono che non ha senso non buildarlo E in questo game secondo me Aveva molto senso chiudere l'item mythico Che non ho fatto Perché non ho snowballato Quindi tanto voleva buildare quello lì Secondo me Vabbè è andata bene comunque Sono stato carry out questo game Lo accetto così Eravamo behind Ma non tanto per colpa mia È colpa delle solo game che ci hanno messo un po' behind eh